Buongiorno e ben ritrovati, rieccoci puntuali in diretta alle 12 per la nostra prima edizione, il primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3, anche oggi abbiamo molta cronaca di cui raccontarvi, chiaramente riflettori ancora puntati sull'inchiesta di Venezia, tra pochissimo andremo a seguire una nuova seduta del Consiglio Comunale per capire quello che è il clima che si respira dopo il Consiglio di ieri, un Consiglio assolutamente infuocato e poi abbiamo ancora notizie legate al maltempo di maggio sul fronte risarcimento soprattutto per quanto riguarda la zona del Vicentino ma anche il maltempo di ieri sera che ha interessato la zona del Bellunese con forti precipitazioni che hanno provocato una colata detritica sulla sede della pista ciclabile di collegamento tra Cortina e Dobbiaco. Ebbene, l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza di chiusura immediata del tratto interessato e questo per garantire la sicurezza di turisti e cittadini ma anche per permettere agli operatori di intervenire prontamente per mettere in sicurezza l'area. I lavori di di pristino sono già stati programmati e si prevede di completare l'intervento entro gli inizi della prossima settimana. E poi la cronaca ci porta invece a Padova perché dopo numerose segnalazioni di spaccio il questore ha disposto la chiusura per 30 giorni di un bar di via San Salvatore. Siamo a Camin, la decisione dopo numerosi episodi di pericolosità sociale riscontrati dai controlli della polizia. Sette giorni fa era stato arrestato all'interno del locale un nordafricano che aveva ceduto per 40 euro una dose di cocaina. In un controllo precedente dentro al locale era stata rilevata la presenza di pregiudicati. Da qui la decisione di sospendere la licenza per 30 giorni all'attitolare una cittadino cinese di 26 anni. E poi ci spostiamo a Treviso dove la Guardia di Finanza ha scoperto e bloccato una frode fiscale attuata tra il 2018 e il 2022 attraverso falsi contratti d'appalto per oltre 10 milioni di euro nel settore delle pulizie per alberghi e ristoranti in Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Lombardia ma anche nelle province di Bologna, Firenze, Lucca, Massa, Carrara. Tre le persone denunciate alla Procura della Repubblica di Treviso per i reati di somministrazione fraudolenta di manodopere e demissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di conseguire un risparmio di imposte pari a circa 2 milioni di euro. E poi il drammatico incidente di ieri mattina lungo la strada regionale Transpolesana un'ambulanza della Croce Verde di Adria ferma per soccorrere le persone coinvolte in un incidente pronta a partire con un ferito a bordo è stata travolta da un'auto pesante il bilancio feriti 6 operatori sanitari, 2 sono in gravi condizioni. Fermo a lungo la strada i lampeggianti accesi, un ferito già caricato pronto per essere trasportato in ospedale è una tragedia quella che si è consumata lungo la strada regionale Transpolesana dove un'ambulanza della Croce Verde di Adria è stata travolta da un'auto un'Audi con targa tedesca sopraggiunta in direzione Rovigo ad alta velocità. Il primo incidente è intorno alle 8.40 quando un'auto articolato fermo in questa piazzola di sosta si è immesso lungo la Transpolesana, un veicolo che sopraggiungeva, si è scontrato con il mezzo pesante a sua volta tamponato da una Fiat Panda. L'impatto dell'Audi con l'ambulanza è stato devastante l'autista, un 57enne di Badia Polesine è stato sbalzato a metri di distanza colpi terribili anche per l'infermiera all'interno una professionista di lunghissima esperienza il bilancio finale è di 6 operatori dell'Ulss 5 Polesana feriti i più gravi l'autista trasportato in elicottero all'ospedale Borgo Trento di Verona e l'infermiera elitrasportata a Padova tutti e due sono in prognosi riservata le condizioni degli altri 4 coinvolti ricoverati negli ospedali di Legnago e Rovigo non destano preoccupazioni sulla dinamica dell'incidente stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Legnago per pochi metri ma lo scontro è accaduto in provincia di Rovigo grande la preoccupazione tra i colleghi dei feriti vicini a loro e alle loro famiglie noi siamo vicinissimi alle famiglie dei due operatori l'autista, il soccorritore e l'infermiera coinvolto siamo sempre a disposizione per dargli anche un supporto morale un mestiere sempre più a rischio aggiunge Davide Bonapace siamo sempre più allibiti da quello che sta succedendo soprattutto per le figure professionali che una volta venivano chiamate angeli che oggi sono dimenticate dove a livello nazionale non c'è un riconoscimento contrattuale dove a livello regionale c'è un riconoscimento ma non una giusta retribuzione parliamo da infermieri che fanno turni massacranti con retribuzioni minime ad autisti che siano degli enti pubblici o enti privati con stipendi che anche là non sembrano veramente bassi la squadra mobile di Rovigo sta interrogando sei minorenni sottoposti anche a perquisizioni domiciliari legata all'aggressione ad una coetanea alla quale avrebbero strappato il cellulare filmando il tutto con i loro telefonini degli indagati 4 hanno un'età inferiore ai 14 anni l'attività investigativa è iniziata a maggio quando la madre della vittima aveva denunciato l'aggressione subita dalla figlia tirata da alcuni suoi coetanei in alcuni giardini in pieno centro città la ragazza con i propri smartphone le avrebbero la ragazza scusate sarebbe stata accerchiata dai giovani che riprendendo la scena con i propri smartphone le avrebbero tirato i capelli e lanciato contro alcuni oggetti minacciandola con una pistola e un coltellino la pistola ad aria compressa e il coltellino con apertura a farfalla sono stati trovati in possesso ad uno degli indagati tutti accusati di percosse, minacce e violenza privata in concorso uno dei giovani risulta anche indagato per torto di armi e oggetti atti ad offendere ci spostiamo nel Vicentino tenta di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra ma i carabinieri lo vedono è arrestato per detenzione e cessione di stupefacenti a minore i carabinieri di Malo hanno arrestato un uomo di Isola Vicentina trovato in possesso di 240 grammi di hashish il giovane è stato notato dai carabinieri mentre tentava di disfarsi gettandolo dalla finestra della propria abitazione di un involucro contenente della sostanza stupefacente la successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari dell'arma di trovare un bilancino di precisione è nascosta in varie fenditure delle pareti dell'abitazione 240 grammi di hashish gli accertamenti hanno anche permesso di accertare l'accessione di stupefacenti ad un minore Malore ad alta quota ieri pomeriggio un sessantenne padovano che insieme a due amici stava visitando il forte Campolongo si è sentito male l'uomo è stato soccorso dal tecnico di Elisoccorso ed equip medica provenienti da Treviso l'uomo è stato sottoposto ai primi controlli dove è apparsa evidente la gravità delle sue condizioni non appena l'elicottero si è avvicinato per l'imbarco l'escursionista è improvvisamente peggiorato e il personale sanitario gli ha praticato le manovre di rianimazione finché non si è ripreso caricato a bordo e è stato trasportato all'ospedale di Bassano del Grappa truffati da un sedicente operaio dell'acquedotto e da un falso vigile urbano protagonista una coppia famosa Giorgio Palese e la moglie Paola che ci hanno raccontato la loro disavventura perché non succeda ad altre persone Giorgio Palese ci viene da dire che se capita a lei vuol dire che può capitare veramente a tutti per quello sono molto triste mi è capitato e probabilmente se lo fanno di nuovo ci casco di nuovo truffe agli anziani questa volta è capitato a Giorgio Palese alla moglie Paola una storia come tante altre è accaduta in passato con la variante del protagonista che dall'alto dei suoi 83 anni da imprenditore di truffe, raggiri e altri magheggi finanziari e non ne ha visti davvero tanti ma quello accaduto a casa sua oggi pomeriggio ha un chedi teatrale sono stati talmente bravi è stata una commedia di Totò così bravi da raggirare non solo lui ma innanzitutto la moglie attirata dal classico campanello del cancello d'entrata e vedo un signore con una tutta dell'acquedotto, di operaio e mi dice signora siamo venuti a fare un controllo all'acquedotto sostanza acida sulla conduttura con effetti esplosivi rilevabile da un sensore che l'uomo mette sotto ai rubinetti prima della caldaiera al piano terra poi al bagno padronale in casa, dentro, in bagno ha spruzzato perché io mi sono spostata per aprire un altro rubinetto e lui naturalmente senza vedere l'ho fatto così e si è sentito l'odore di gas e lì ti sei e lì mi sono detto mamma mia qua c'è proprio un guasto a quel punto l'operaio consiglia alla signora di prendere denari preziosi e metterli in frigorifero per evitare possibili esplosioni deve levare via tutto mettere dentro su un sacchettino e lo proteggiamo in frigorifero in frigorifero ho detto io sono rimasta così io ho detto no guardi le posso tenere ma io vado in giardino no no dice in frigorifero perché li sono isolati nel frattempo in casa si presenta un altro uomo vestito in tutto e per tutto da vigile urbano che intrattiene Giorgio Palesa siamo messo qua abbiamo parlato del più e del meno mi è stato talmente simpatico che come ho detto te gloria al mio libro e il Rolex? allora mi ha detto che c'era il pericolo Rolex dovevamo metterli in frigorifero passa qualche minuto e l'operaio con una radiolina parla ad una sedicente centrale e comunica alla coppia e al vigile che deve fare un altro intervento e i due spariscono in pochi istanti e io allora quando ho visto che sono spariti sono andata nel frigo ho guardato il mio sacchettino con le mie cose era sparito resta la mala consolazione che non c'è stata violenza ma anche il dovere civico di non vergognarsi e divulgare l'accaduto è una truffa agli anziani questo non deve succedere è immorale ma non sono arrabbiato con loro sono arrabbiato con me con me stesso non deve succedere una roba del genere per favore amici non aprite la porta a nessuno ma la marca Trevigiana continua ad essere sotto il mirino dei ladri dopo quegli acrobati di due giorni fa in via Longin siamo sempre tra Roncade e San Cipriano altro furto in via San Cipriano la proprietaria che era già stata vittima in passato dei furti dice non tornate più dice ai ladri non tornate più non c'è più niente da rubare basta io a casa non ho più niente per nessuno quindi questo è l'appello ai ladri sì sì questo è l'appello per i ladri io ho già dato non ho più niente da dare a nessuno è davvero esasperata la signora Francesca in pochi anni tre volte i ladri in casa e l'ultima visita ieri pomeriggio qua era tutto verde era tutto chiuso da visitazione praticamente garuto la finestra questa entrai la qua praticamente entrai andati in stanza andati dentro in casa e la portavi io a chi la trova ladri attenti a tutto anche le bottigliette d'acqua sei e mezza ieri sera mi sono accorta e lei è tornata a casa dal lavoro sì e quindi ha trovato il lavoro e sì ha trovato la finestra aperta sì mi sono accorta è sempre una bottiglietta dell'acqua che prima non c'era sopra sopra il tavolo perché di solito la metto qua per dargli l'acqua quindi hanno spostato la bottiglietta d'acqua per entrare sì sì professionisti dello scasso visto che hanno forzato l'infisso facendo saltare la ferramenta della blindatura ho rotto tutto io ho proprio rotto tutti gli attacchi le finestre che mi va probabilmente sono i stessi ladri che poco prima avevano tentato di entrare in questa abitazione di via Garibaldi a Roncade senza risultato ripiegando quindi sulla casa di via San Cipriano dove hanno rovistato ovunque portando via gli ultimi preziosi rimasti adesso ti ha rimesso a posto tutto immagini è prima roba che si tutte le lavatrici fatte sì sì poi ieri sera un po' stanotte un po' stamattina e tra i cassetti rimessi a posto i vestiti invece rimessi a lavare è saltata fuori anche una seppur magra consolazione il Megalass ha un orecchino l'unica roba che il Megalass ha che gli è caduto mi sono rimasto il ricordo dell'ultimo furto e allora vi avevo anticipato in apertura gli aggiornamenti sull'inchiesta a Venezia tra qualche minuto torneremo in consiglio comunale a Caffarsetti con Ilaria Marchiori per seguire questa seconda seduta del consiglio comunale ma facciamo un passo indietro torniamo alla giornata di ieri con tensioni urla e polemiche in consiglio comunale dopo proprio la bufera giudiziaria che ha travolto Caffarsetti il sindaco Brugnaro dopo un vertice di maggioranza ieri mattina ha confermato si va avanti ma non si presenta all'assemblea inviando una lettera insorgono le opposizioni non si può andare avanti con questa situazione dimissioni chiedono appunto dai banchi dell'opposizione Fischi urla richieste di dimissioni tensione in consiglio comunale Venezia il giorno dopo l'inchiesta della procura che ha indagato il sindaco Luigi Brugnaro e portato in carcere l'assessore Renato Boraso il primo cittadino dopo una riunione di maggioranza in mattinata ha deciso di andare avanti e non si è presentato nel pomeriggio all'assemblea affidando alla presidente Ermelinda Damiano la lettura di una lettera Sarà io stessa a chiedere di inserire all'ordine del giorno la questione in uno dei prossimi consigli comunali per riferire a voi consiglieri e a tutta la città non tanto sulle questioni giudiziarie che a questo punto saranno affrontate nella sede loro propria quanto sulle questioni di natura politica e amministrativa collegate e in erenza di ragione stessa non oggi perché non ho alcuna intenzione di trasformare l'aula in campo di battaglia senza loro di battaglia le opposizioni in calzano troppo grave quanto accaduto così Gianfranco Bettina capogruppo Verdi Progressisti noi non chiediamo la condanna di nessuno chiediamo un chiarimento politico siccome il chiarimento politico non avviene a noi sembra che questo sia un elemento in più per chiedere un zeramento politico e cioè che la città non abbia necessità di andare avanti anni con l'apice della propria amministrazione che tratta questioni investimenti che si presenta al mondo con il vertice indagato per corruzione questa cosa non è sopportabile l'unica soluzione è l'alteramento le dimissioni dell'amministrazione che ritorno alle urne aiutando la parola dopo una sospensione il Consiglio decide di proseguire con i punti all'ordine del giorno come se nulla fosse successo tra fischi urla e polemiche qui c'è un problema anche di regolarità del Consiglio avete votato dei libri senza che sapessimo cosa stava dicendo la Presidente del Consiglio ha visto tutto qua quelle quell'attrazione che si sono hanno che regolarità questa cosa di voler andare avanti come il pianista sul Titanic è una sfida alla città e inizia anche il ridicolo questa cosa è una sfida e la ritorno è una sfida l'assessore Boraso in custodia cautelare a Padova è provato ma determinato a difendersi a dirlo il suo legale mentre il collega che difende il sindaco Brugnaro si dice estere fatto per delle accuse che sono inspiegabili l'ho visto provato penso soprattutto alla sua famiglia la mamma la moglie ma l'ho visto anche però determinato devo dire la verità determinato nel voler riuscire a dimostrare proprio che il suo operato è sempre stato corretto e sempre improntato alla trasparenza nel secondo giorno di detenzione nella casa circondariale di Padova l'assessore Boraso parla tramite il suo legale non nasconde preoccupazione per la famiglia e l'anziana mamma ma è intenzionato a difendersi si è studiato si è studiato l'ordinanza ha cominciato a mettere giù degli appunti su tutto attende di vedere il fascicolo attende di vedere il fascicolo per verificare le ipotesi accusatorie e quindi per prendere anche contesa degli atti di indagine e proprio per dimostrare proprio la sua innocenza dal canto suo l'avvocato nominato questa mattina come difensore di Boraso sta decidendo ancora come muoversi non è ancora stato fissato per me l'interrogatorio non ho ancora gli atti ho solo l'ordinanza spero che domani mi vengano depositati gli atti e quindi poi li porterò in carcere e cominceremo a studiarli E sterrefatto proprio come si è definito il suo cliente l'avvocato del sindaco Brugnaro E sterrefatto per due ragioni la prima perché il sindaco Brugnaro ha ricevuto soltanto un'informazione di garanzia non ha subito alcuna perquisizione per questa ragione non ha diritto ad alcun accesso agli atti di indagine allora se dobbiamo fare un ragionamento soltanto su informazioni di garanzia non riusciamo a ragionare perché non ci spieghiamo il senso dell'accusa Rampinelli Rampinelli spiega la questione dei Pili e di Palazzo Papadopoli Pili L'accusa sembrerebbe ipotizzare un interessamento del sindaco per consentire l'edificabilità di questa vasta area questa area è altamente edificabile per volontà delle amministrazioni precedenti al sindaco Brugnaro la storia di Palazzo Papadopoli è semplicissima amministrazioni precedenti in epoche precedenti stimano nell'ordine di 14 milioni di euro il valore di questo palazzo procedono come si deve procedere per legge a delle aste pubbliche per l'assegnazione non partecipa nessuno successivamente come prevede la legge si deve rifare la stima la stima non può essere identica alla precedente sull'intercettazione poi tra Brugnaro e Boraso Rampinelli spiega il sindaco l'ha letta sui giornali quello che ricorda è che semplicemente immaginava aiutare campagne e direttorali e giustamente come sindaco gli ha detto di fare attenzione intanto Brugnaro ha convocato un vertice con gli esponenti della maggioranza per dire loro di andare avanti il sindaco Brugnaro non rassegnerà nessuna dimissione perché non solo non ha nulla da nascondere ma ha spiegato ancora tante cose da fare per il comune di Venezia prima della fine del proprio mandato quindi questo è proprio escluso non farebbe il bene della comunità veneziana quindi è probabile che noi nei prossimi giorni lo potremo anche incontrare in qualche conferenza io non conosco l'agenda del sindaco Brugnaro ma di certo non si nasconderà da nessuna parte perché non ha nessuna ragione le indagini le indagini sono ancora in corso e sicuramente ci saranno degli sviluppi ha dichiarato il procuratore Kerchi ascoltato in commissione antimafia ma non sono emersi ha concluso collegamenti di alcun tipo con la criminalità organizzata era un'attività autonoma e sono numerose le intercettazioni che compaiono nelle oltre 170 pagine dell'ordinanza tra queste una in cui l'assessore Boraso dice di voler fare una causa milionaria al comune di Venezia per la questione della società Parc 4.0 SRL bisogna fare una causa di 10 milioni di euro di danni al comune che ci ha preso per il C come ho sempre detto a parlare l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso in un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP definita dal giudice rivelatrice della completa immedesimazione con l'interesse privato della società Parc 4.0 SRL da parte dell'assessore che dovrebbe si legge ancora esclusivamente perseguire l'interesse del comune e che invece arriva al punto di proporre una causa milionaria contro il comune che in teoria dovrebbe rappresentare Boraso sta parlando con l'avvocato Zambelli si legge ancora nell'ordinanza come se fosse lui il titolare della Parc 4.0 che rientra tra gli 11 episodi di corruzione contestati all'assessore venuti a galla anche grazie alle intercettazioni che ancora una volta si sono rivelate fondamentali come dichiarato dal procuratore Cherchi noi abbiamo sempre non solo in questo caso ritenuto che le intercettazioni di per sé non possono costituire prova di niente perché bisogna valutare come vengono dette quando vengono dette come vengono rapportate tra i soggetti si può scherzare si può dire cose serie ecco noi abbiamo cercato di individuare all'interno delle intercettazioni le cose come dire serie cioè quelle che effettivamente non potevano essere mal interpretate da noi con gli accertamenti che la guardia di finanza ha effettuato con come ho detto prima con intelligente partecipazione all'indagine tra quelle più rilevanti oltre le già citate nelle più di 170 pagine dell'ordinanza anche quella tra Boraso e l'imprenditore rivierasco Fabrizio Ormenese l'altro arrestato e portato in carcere ascoltami si legge quando è a posto con l'operazione siccome tu mi hai dato una mano e tutto io ti faccio un bonus di 200.000 non ti ho detto niente tu non sai niente il contesto è relativo alla vendita di un terreno dell'immobiliare Venezia nel 2022 per la quale Boraso avrebbe chiesto 40.000 euro tramite fatture fittizie appresa la notizia nota il GIP Scaramuzza l'assessore risponde va bene e Ormenese ribadisce che l'ulteriore cifra esula dalla fattura già emessa ma le intercettazioni non finiscono qui nell'ordinanza ne viene riportata una tra il sindaco Brugnaro e l'assessore Boraso in cui il primo cittadino gli dice tu non mi ascolti devi stare attento 17 marzo 2023 il sindaco Luigi Brugnaro striglia all'assessore Renato Boraso tu non mi ascolti tu non capisci un cavolo mi stanno domandando che tu domandi soldi tu non ti rendi conto rischi troppo se io ti dico di stare attento ti devi controllare è un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP e definita dal giudice di fondamentale importanza perché il sindaco fa presenti a Boraso che lui chiede i soldi alle persone alle parole del sindaco l'assessore intercettato replica cambio anche il telefono Brugnaro sbotta ma non è il telefono ti hanno messo gli occhi addosso stai attento a queste robe qua devi estirparla in un'altra intercettazione il sindaco dice all'assessore ascoltami ho guardato un poco di lottizzazioni quella di Luca che è un sacco di robe non ci sono gli accessi sulle strade le ho prese in mano adesso le sblocco il prima possibile gli ho dato in mano tutto a lui tu cerca di non intrometterti lascia che la veda lui in primo luogo scrive qui il GIP nell'ordinanza il sindaco conferma di aver preso in mano delle lottizzazioni che le sbloccherà il prima possibile citando espressamente quelle di Gianluca Vidal a Rione Pertini però intimando perentoriamente Boraso di non intromettersi avendole affidate ad un'altra persona lasciamo ma solamente per qualche minuto la vicenda dell'inchiesta di Venezia perché tra pochissimo ci collegheremo con Ilaria Marchiori per seguire la seconda giornata di Consiglio Comunale a Caffarsetti e torniamo a parlare di maltempo vi abbiamo raccontato delle precipitazioni di ieri a Cortina che hanno interessato la pista ciclabile con una colata detritica che ha richiesto la chiusura di quel tratto di pista ma ci sono ancora gli echi dell'andata di maltempo dello scorso maggio soprattutto per un'area del Vicentino a Malo si sono riuniti i primi cittadini appunto di Malo di Isola Vicentina e Monte di Malo hanno deciso di mettere insieme le proprie forze per farsi sentire con gli organi competenti sul fronte naturalmente dei risarcimento e allora ci colleghiamo con Luisa Bertini insieme ad Andrea Benetti insieme proprio ad alcuni primi cittadini e alle loro spalle quello che è un po' il simbolo di questa ondata di maltempo buongiorno Luisa e buongiorno ai tuoi ospiti sì buongiorno a te buongiorno ai nostri telespettatori dicevi bene questo è un po' il simbolo di quella che è stata l'ondata di maltempo del 16 maggio perché ci troviamo proprio sopra al ponte delle Galline che dall'ondata di piena del fiume è corollato completamente il 16 maggio come vedete ad oggi la situazione è questa io sono in compagnia del sindaco di Malo del sindaco di Isola di Vicentina e del sindaco di Monte di Malo proprio perché per la questione risarcimenti hanno deciso di mettere insieme le proprie forze e di far sentire la loro voce anche agli organi competenti dunque sindaco il primo passo che farete sarà un incontro in prefettura anche con altri primi cittadini delle zone colpite dall'ondata di maltempo di maggio sì allora abbiamo chiesto anche con il sindaco di Marostica che oggi qui non è presente un incontro in prefettura con il prefetto e tutti i rappresentanti istituzionali e degli enti che sono stati coinvolti per capire quali sono i passi che dobbiamo adottare e quali risposte dobbiamo dare ai nostri concittadini quindi avvierete diciamo un tavolo di confronto con la prefettura vi incontrerete le prossime settimane sì incontreremo la prefettura ma come ho detto poc'anzi anche i nostri rappresentanti politici a livello nazionale perché anche da da quello che sentiamo e da quello che del percepito anche eventuali ulteriori tagli a livello diciamo così dei bilanci comunali quindi minor trasferimenti e quindi minor parte corrente che ci serve sia per la manutenzione ordinaria sia per accedere anche eventualmente a mutui e quindi ripristinare opere pubbliche danneggiate dalle due fasi dell'alluvione comporterebbe una crisi e un collasso del bilancio comunale e questo vuol dire minor sicurezza ai nostri cittadini e minori risposte ecco secondo una stima dei danni soltanto nei vostri tre comuni mi rivolgo anche al sindaco di Isola Vicentina la stima dei danni sarebbe attorno ai 20 milioni di euro soltanto per il patrimonio pubblico però c'è anche il fronte dei cittadini e dei privati molto colpiti a Isola Vicentina quindi sui risarcimenti si chiede soprattutto agli enti preposti una risposta veloce sì ci siamo come dire adoperati per fare massa critica e fare in modo che ci di portare l'attenzione giusta e dovuta anche per considerare appunto questi danni ai privati parliamo di oltre di quasi 50 milioni di euro stimati che devono anche però essere misurati e le raccolte poi anche dei danni delle dichiarazioni dei danni devono ancora essere avviate e questa inerzia se vogliamo dirla così nonostante le risorse messe a disposizione del governo preoccupa anche i cittadini perché non si capisce quanto tempo debba ancora passare per iniziare questa misurazione e poi rendere reale il numero e capire di quante risorse abbiamo necessità per rispondere alle perdite e ai danni subiti dai privati cittadini rimangono anche però sul territorio i segni della devastazione degli eventi luvionali di maggio e serve da una risposta anche ai comuni perché ci sono opere da realizzare prevenzione da mettere insieme quindi noi non vogliamo essere contro qualcosa vogliamo essere propositivi e coinvolgere tutti gli enti governativi gli enti regionali e gli enti anche sovraordinati che sono quelli del genio civile e consorzi per fare in modo di fare una massa critica e ottenere le risorse necessarie per il territorio ecco il problema delle risorse che attanaglia ovviamente i comuni sulla questione tagli lei prima diceva abbiamo ricevuto delle briciole come risorse siamo veramente molto preoccupati in quanto tutti i comuni sia quelli piccoli che anche quelli medi quelli più grandi hanno problemi di bilancio in questi periodi non è facile tirare avanti un ente avendo sempre meno risorse a disposizione soprattutto quando ti trovi ad affrontare delle situazioni emergenziali come quelle che abbiamo affrontato quando abbiamo messo a disposizione tutto ciò che avevamo in casa cioè anche il poco avanzo di amministrazione che avevamo per cercare di tappare le falle su questo sistema e cercare di fare un po' di prevenzione però non è sufficiente dobbiamo impegnare maggiori risorse che non abbiamo francamente è per questo che abbiamo unito le forze per cercare di avere maggiore forza rispetto anche ad un sistema che deve darci delle risposte perché altrimenti noi non possiamo tirare avanti con i nostri enti per molto tempo nel senso che obiettivamente abbiamo già fatto riconosciuto dei debiti fuori bilancio per far fronte a queste emergenze e non possiamo andare oltre ecco l'avete sentito la situazione del territorio resta critica si chiedono risposte veloci relativamente ai risarcimenti sia per quanto riguarda i comuni sia per quanto riguarda i privati cittadini intanto io ringrazio i tre sindaci che sono stati con noi restituisco la linea allo studio Luisa Bertini e grazie naturalmente anche ai sindaci per averci fatto sentire la voce del territorio noi ci fermiamo per la pubblicità subito dopo andremo a Caffarsetti per seguire la seconda giornata di consiglio comunale ma poi parleremo anche dell'esperienza degli studenti nelle aziende in quella che è definita l'apprendistato duala tra poco siamo tornati in diretta tra qualche istante ma chiedo aiuto a Renato Capoia e a Fabio in regia se mi danno qualche segnale per collegarci con Caffarsetti vi abbiamo riassunto quella che è stata la giornata di ieri in un consiglio comunale infuocatissimo oggi seconda giornata e allora vado subito da Ilaria a Marchiori per capire che clima si respira oggi naturalmente stiamo parlando dell'inchiesta che ha travolto il comune di Venezia buongiorno Ilaria buongiorno a te Francesca buongiorno ai nostri telespettatori il clima che si respira è decisamente più disteso di quello di ieri ora alle mie spalle non vedete più nulla perché oggi il consiglio si è concluso è stato approvato il bilancio qui insieme a me c'è Giuseppe Sacca il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale e ci spiega perché la giornata di oggi in consiglio comunale è decisamente con toni tutt'altro che quelli accesi di ieri devo dire intanto buongiorno a tutti che la situazione è ancora drammatica e siamo davanti a un'emergenza democratica noi oggi ovviamente siamo venuti in consiglio comunale perché speravamo che la notte avesse portato consiglio il sindaco Brugnare che quindi oggi si presentasse a riferire politicamente di quanto sta accadendo purtroppo il sindaco continua a nascondersi oggi più che mai davanti a quello che sta accadendo e vorrei sottolinearlo non è semplicemente un sindaco indagato che è già una cosa molto grave non è semplicemente se così si può dire un assessore alle carceri purtroppo ma è tutta la macchina amministrativa le funzioni apicali della macchina amministrativa che sono state indagate dal direttore generale al vice capo di gabinetto a diversi funzionari apicali delle partecipate questo mai era successo nella storia del comune di Venezia una situazione appunto gravissima e questo vuol dire per l'opposizione ancora più rispetto a ieri stare nelle istituzioni e controllare gli atti amministrativi che ci vengono proposti ciò non toglie che il sindaco deve venire a riferire infatti oggi presenteremo le firme perché venga convocato un consiglio straordinario ciò non toglie che davanti a un atteggiamento così irresponsabile di un sindaco che non si fa vedere che non ci mette la faccia che non dimostra il coraggio di venire a riferire al consiglio comunale quindi alla città non ci possono essere che le dimissioni davanti a questo scenario veramente inquietante che si è aperto davanti agli occhi di tutti noi perché qui per la prima volta manca la fiducia e la trasparenza negli atti amministrativi che vengono sostanzialmente approvati dal comune di Venezia mai era successo una cosa del genere nella storia del comune di Venezia e quindi noi crediamo che l'amministrazione debba trarne le conseguenze e fare un passo indietro si vada a elezioni e poi saranno ovviamente i cittadini a decidere qual è il futuro politico politico di questa città ci tengo a sottolineare che noi è da anni che denunciamo come sia il conflitto di interessi un cancro all'interno di questa amministrazione che il blind trust sia tutt'altro che è cieco e denunciamo uno stile padronale nella gestione della macchina pubblica non solo sono state azzerate le municipalità il consiglio comunale è sempre stato sbeffeggiato ma purtroppo così appare poi aspetteremo ovviamente il lavoro della magistratura che anche parti non tutta ovviamente ma parti dell'amministrazione siano state in qualche maniera travolte da questo stile padronale che ha sempre contanto stingue l'agire politico di Brugnaro ora la politica deve tornare al governo e se ciò accada bisogna andare alle urne noi del centro-sinistra abbiamo una piattaforma politica ben definita che va dai temi della residenza al turismo dell'economia dei servizi sociali e quindi siamo pronti a misurarci col giudizio degli elettori e siamo pronti a riportare la fiducia nell'amministrazione che è la cosa più importante che oggi deve essere ripristinata nella nostra città a lei dice bisogna andare presto alle urne voi avete da tempo questa piattaforma dunque voi siete pronti a questo punto immagino che starete già iniziando a pensare a un eventuale candidato ma adesso ovviamente noi siamo evidentemente stiamo anche ragionando perché c'è l'elezione diretta quindi il candidato sindaco o la candidata sindaca è ovviamente un anello importantissimo stiamo discutendo ma ribadisco noi siamo pronti ad andare alle urne appena venissero convocate per noi deve essere il prima possibile davanti a una vera e propria emergenza democratica sacca ieri il sindaco Brugnaro tramite il suo legale a parte che aveva diramato una nota già due giorni fa in cui si diceva esterrefatto che non capiva il motivo dell'accusa ricordiamo che tra l'altro è stato recapitato questo avviso di garanzia come ha detto il procuratore Bruno Cherchi a tutela per informarlo che si stava indagando che si stavano cercando di fare accertamenti proprio per quanto riguarda appunto il blind trust ieri appunto attraverso il suo avvocato lui ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di dimettersi che non si sta nascondendo ma che ha intenzione di continuare e di arrivare alla fine del suo mandato perché ha ancora molto da fare per la città voi però continuate a dire deve venirlo a dire vis a vis perché dobbiamo vogliamo una spiegazione e vogliamo incontrarlo è difficile affermare che non si sta nascondendo quando è due giorni di consiglio comunale che chiede a gran voce che venga e lui non si è presentato quindi francamente noi siamo costretti a raccogliere le firme per un consiglio straordinario quindi affermare che non si sta nascondendo francamente è sotto gli occhi di tutto che invece proprio quello che sta facendo è nascondersi non assumere la responsabilità politica di quanto sta accadendo questo è un fatto gravissimo quindi non resta che il sindaco faccia un passo indietro e si torni a votare ecco allora io ringrazio Giuseppe Sacca prima di salutarci vi ricordo che appunto mentre il sindaco Brugnaro ha detto che non ha alcuna intenzione di dimettersi l'assessore Renato Boraso tramite sempre il suo legale ha detto che invece sarebbe anche disposto a farlo ma che comunque lui chiarirà tutto che è innocente e quindi ha tutta l'intenzione di lottare e di difendersi stiamo aspettando anche di capire tramite i legali quando saranno gli interrogatori si parla delle prossime ore i prossimi giorni quindi poi ne renderemo conto anche nel corso delle nostre edizioni informative e serali ringrazio nuovamente Giuseppe Saccaio qui da Venezia restituisco la linea allo studio grazie grazie Ilaria Marchiori insieme a Francesca Pezzo grazie a Sacca anche per questo collegamento da Caffarsetti adesso noi voltiamo pagina ve l'avevo anticipato e parliamo di questo rapporto che si fa sempre più stretto tra aziende e mondo della scuola o capiremo se effettivamente è così di quanto c'è bisogno nel mondo delle aziende di giovani figure da formare all'interno delle proprie linee produttive parliamo quindi dell'apprendistato duale e lo facciamo insieme ad Alberto Boscariol direttore di Confartigianato Imprese Vittorio Veneto buongiorno grazie per essere con noi e insieme a Massimo Camerin imprenditore che ha vissuto e vive in prima persona questa esperienza grazie per essere con noi buongiorno allora sono stati 38 i ragazzi neodiplomati usciti dall'Ipsia Città della Vittoria che sono stati interessati da questa esperienza ma direttore allargando un po' il discorso a livello provinciale il numero è importante di ragazzi che appunto entrano nel mondo delle aziende sì il numero è molto importante al di là di altri istituti che sono tipo quello dei PCTO dell'attenanza scuola lavoro in questo specifico settore che è quello dell'apprendistato cosiddetto duale o meglio ancora di primo livello in provincia di Treviso sono 376 i ragazzi che hanno aderito a questa nuova modalità di arrivare al diploma al quinto anno siamo la seconda provincia dopo Verona in Veneto quindi sono dei risultati che ci fanno ben sperare per il proseguo perché comunque il lavoro da fare è ancora è ancora molto perché le esigenze delle aziende sono sempre più impellenti data la mancanza continua di persone e uso il termine persone non quello di personale perché in realtà il problema è sociale quello della mancanza di persone ma poi perché le attività hanno necessità di questo tipo di figure e quindi questo modo è un modo molto interessante e molto importante per avvicinare il mondo della scuola al mondo dell'azienda io colgo subito la palla al bazzo per quanto ha detto il direttore Boscariol Camerin per chiederle se effettivamente questa mancanza di personale questa difficoltà per dire personale c'è la vivete sulla vostra pelle tutti i giorni rispetto voi che avete una storia decennale alle spalle come impresa rispetto al passato sì sì ovviamente oggi giorno in questi momenti qua viviamo proprio questa situazione dove purtroppo non troviamo più persone ragazzi che escono dalle scuole sono pochissimi sono pochissimi che vanno a scuola in questi diciamo così contesti produttivi dalla meccanica all'elettrotecnica all'elettronica e per cui sentiamo effettivamente questa mancanza io del resto mi ricordo da quando sono nato l'attività è nata diciamo abbiamo avuto sempre un rapporto anche con la scuola tramite il confrattigianato e con l'alternanza scuola lavoro un'alternanza scuola lavoro che era di 15-20 giorni i ragazzi venivano capivano cos'era un'azienda eccetera oggigiorno in questi proprio soprattutto questi ultimi 10-15 anni è più difficile per loro cioè c'è la necessità che questi ragazzi proprio entrino nell'azienda perché le aziende non hanno più tempo di aspettare le aziende vogliono tecnici perché diciamo così lo sviluppo tecnologico l'innovazione a livello globale perché siamo in un contesto globale ci spinge a voler persone che siano già specializzate comunque è difficile perché non è che uscendo da scuola tutto si sia imparato però c'è già una buona strada per cominciare diciamo così un percorso diverso e qui io vedo che i ragazzi che vengono sono più sono contenti chiaramente bisogna trovare anche delle metodologie diverse magari da quelle che abbiamo affrontato perché per questione di tempo di tempistica magari il rapporto tra scuola e l'azienda stessa però diciamo secondo me è fondamentale perché anche le scuole hanno avuto in questi ultimi decenni poche risorse anzi quasi nulle per investire per poter stare al passo con le tecnologie con gli investimenti anche che ci sono nelle aziende e per cui queste cose diciamo hanno pesato e pesano soprattutto le nostre aziende del territorio quindi è logico che se vogliamo non ce ne sono tanti che vanno a scuola dicevo prima e quindi quei pochi che ci sono dobbiamo cercare di curarli il più possibile ecco direttore questi ragazzi sono ragazzi erano ragazzi degli ultimi due anni giusto e in che modo hanno lasciato per un po' i banchi di scuola e sono entrati nel mondo delle imprese e che imprese sono state coinvolte in questa esperienza allora il percorso nasce un po' l'anno precedente perché come dicevo prima questa è un'attività importante che necessita di un percorso anche preparatorio quindi per un anno quasi noi abbiamo assieme alla professoressa Picchi che è stata un po' il motore obiettivamente di questo tipo di percorso abbiamo incontrato le aziende abbiamo detto loro di che cosa si tratta abbiamo incontrato le famiglie per spiegare questo tipo di processo dopodiché con l'anno scolastico 2022-2023 i ragazzi che hanno approcciato la quarta superiore dell'Ipsia di Vittorio Veneto hanno cominciato a questo tipo di progetto che prevede 11 settimane all'anno di presenza in azienda come se fosse presenza a scuola quindi la presenza in azienda vale tanto quanto la presenza sui banchi questo ha permesso loro di impratichirsi molto di più di fare delle esperienze che sono ulteriori rispetto a quelle che sono quelle scolastiche riescono a mescolare le competenze che assumono a scuola rispetto a quelle che assumono nel mondo del lavoro e quindi hanno cominciato questo tipo di attività oltre a queste 11 settimane c'è una possibilità di fare altre 100 ore di lavoro che sono ore di lavoro a tutti gli effetti remunerate perché appunto si tratta di un contratto di apprendistato vero e proprio per cui i ragazzi all'età di 18-19 anni hanno potuto avere un loro sia pur minimo il cedolino paga hanno aperto una posizione IMS quindi anche dal punto di vista diciamo così lavorativo e previdenziale hanno una possibilità e hanno avuto un'opportunità che i loro colleghi magari avranno dopo un paio d'anni hanno possibilità di aderire a fondi pensione a tutto quello che riguarda un po' anche il loro futuro e comunque hanno in mano un contratto di lavoro e sono effettivamente pagati poi anche per quello che fanno poi in base a quello che è il rapporto tra ragazzi e l'azienda questi possono essere anche ulteriormente allargati per quanto riguarda le vacanze di Natale le vacanze di Pasqua l'attività estiva quindi ci può essere un ulteriore sviluppo e al termine dei due anni i ragazzi escono portando all'esame di maturità questa loro esperienza che è un'esperienza in più rispetto a quello che hanno fatto i loro colleghi le aziende specifiche presso cui sono stati avviati questi tipi di rapporti sono imprese fondamentalmente della meccanica della carpenteria piccole e meglio grandi e attività dell'impiantistica quindi impiantistica elettrica e termoidraulica e quindi molto spesso anzi quasi sempre attività regate direttamente al territorio perché una cosa anche da considerare in questo aspetto è che portiamo i ragazzi del territorio a lavorare nel territorio e per il territorio perché le piccole aziende artigiane lo ripetiamo sempre sono aziende che vivono nel territorio operano nel territorio i loro dipendenti sono nel territorio i prodotti poi molto spesso vanno nel mondo e ovunque in questo però tutto quello che è poi la redditività dell'impresa viene anche reinvestita nel territorio perché la piccola impresa artigiana sponsorizza la piccola squadra di calcio perché la piccola impresa artigiana sta diciamo così su aiutare quelle che sono le piccole altre realtà locali quindi è tutto un sistema che promuove il territorio sia dal punto di vista aziendale che dal punto di vista lavorativo adesso capiremo anche quanti di questi ragazzi che vivono questa esperienza poi effettivamente restano in quelle aziende o restano in quel settore o preferiscono prendere altre strade e poi chiederò se rispetto alla domanda che arriva dall'azienda l'offerta è sufficiente però devo interrompere un attimo andare a Cassugana con la nostra Elena Dalforno insieme a Nicoletta Rizzetto in compagnia del sindaco Mario Conte del comandante della polizia locale Andrea Gallo perché si è appena conclusa la conferenza stampa che ha illustrato un'implementazione del sistema di videosorveglianza sul fronte sicurezza che è sempre un tema molto caldo buongiorno Elena e buongiorno ai tuoi ospiti buongiorno Francesca grazie a tutti buongiorno siamo qui con il sindaco Mario Conte il comandante della polizia locale Andrea Gallo è stato appena presentato questo progetto di installazione di 50 nuove videocamere di sorveglianza ecco chiediamo subito al sindaco proprio sulla sicurezza della città come si inserisce questo progetto nelle già telecamere che avevate installato di recente sì un investimento importante da 200 mila euro grazie a un contributo di 73 mila euro del ministero degli interni ringrazio il ministro e il sottosegretario Molteni per aver sostenuto questo progetto di videocamere di sorveglianza che si sviluppa in centro e nei quartieri con una distribuzione condivisa insieme alla polizia locale alle forze dell'ordine e alla prefettura che ci consente di essere ancora più presenti e capillari in tutto il territorio comunale un'installazione che prevediamo di realizzare entro fine anno tempi tecnici della gara d'appalto che si aggiunge alle altre già presenti 200 telecamere quindi per un totale di 250 telecamere con orgoglio dico anche che nel mio primo mandato in questo anno del secondo siamo riusciti a installare 150 telecamere per un investimento da 550 mila euro quindi continuiamo ad alzare l'asticella della sicurezza nel nostro territorio ringrazio il comandante Gallo tutta la polizia locale e ringrazio tutti i cittadini che grazie alle loro segnalazioni e alle denunce ci consentano di andare a fare queste installazioni in modo puntuale e sartoriale in base a quelle che sono le esigenze del territorio ecco chiediamo proprio al comandante Gallo dove sono state messe queste nuove telecamere anzi dove saranno messe entro fine anno e poi qual è stato il contributo dei cittadini come spiegava prima addirittura 10 telecamere sono state piazzate lì dove sono state chieste i posizionamenti sono su tutto il territorio comunale dal centro ai quartieri soprattutto nei quartieri abbiamo molto investito tenendo conto delle decine di segnalazioni e di sopralluoghi fatti con gli stessi cittadini che hanno in qualche modo evidenziato delle criticità che la videosorveglianza dovrebbe in qualche modo risolvere non è una bacchetta magica ma è un sistema di prevenzione e repressione molto molto importante che viene messo a disposizione anche delle forze di polizia naturalmente della città che utilizzano quotidianamente anche loro questo sistema di videocamere pertanto diciamo come diceva il sindaco entro fine anno contiamo di installare tutte queste 50 telecamere e di farle funzionare perfettamente e a disposizione di tutte le forze di polizia ecco ci sono dei punti critici della città per esempio sono state messe nuove telecamere in via Roma sono state messe in viale della Repubblica proprio lì dove sono state diciamo ci sono stati degli episodi anche parecchio importanti sì ogni punto ha una propria motivazione perché naturalmente poi il comitato di ordine e sicurezza pubblica che in qualche modo ha già avallato con un'analisi preventiva da parte di questure a Carabinieri il posizionamento dovrà avallare questi posizionamenti che ripeto tengono conto di segnalazioni ma anche dei suggerimenti di questure a Carabinieri molto per noi molto molto importanti ecco il tema della sicurezza Sindaco Conte è nel suo mandato prioritario come ha sempre detto ci teniamo che la città sia sicura una delle più sicure d'Italia sì noi rappresentiamo una delle città più sicure d'Italia siamo sempre sui gradini del podio primi, secondi o terzi in base all'anno però è una posizione certamente importante ma questo significa maggiore responsabilità dobbiamo quindi continuare ad alzare l'asticella lo facciamo attraverso investimenti importanti su tecnologie come le videocamere di sorveglianza lo facciamo incrementando il personale della polizia locale che è sempre in graduale aumento lo facciamo migliorando le dotazioni date ai nostri agenti della polizia locale e lo facciamo rafforzando quella sinergia interforze con Carabinieri Polizia di Stato e Guardia di Finanza che sta portando dei risultati importanti è fondamentale però la sinergia con i nostri cittadini quindi dal controllo di vicinato alle segnalazioni che per noi sono importanti continuiamo ad investire nella direzione che è quella di rendere la nostra città sempre più sicura l'obiettivo entro fine mandato è quello di arrivare a 300 telecamere nel territorio comunale quindi con un investimento di altri 100 mila euro per l'installazione di nuove telecamere ricordo anche che le telecamere esistenti vanno manutentate e qui abbiamo da poco stanziato 40 mila euro per aggiornare i software e per sistemare eventuali guasti in modo tale che oggi tutte le telecamere posizionate nel nostro territorio siano funzionanti ecco comandante Gallo chiediamo l'ultima cosa e cioè il finanziamento di questo progetto deriva in parte diciamo da fondi del ministero e in parte invece da allora senza fondi del ministero non potremmo partire e 130 mila euro che sono stati racimolati in questi ultimi due anni attraverso le sanzioni del codice della strada quindi abbiamo investito 130 mila euro del comune ma attraverso le sanzioni che quindi hanno una finalità ben specifica e quindi questi 130 mila euro più 75 mila ci permetteranno di fare un appalto da 200 mila euro quindi un appalto abbiamo chiamato maxi appalto quindi siamo assolutamente soddisfatti di questi risultati e del contributo del ministero degli interni come ha citato giustamente il sindaco Conte ecco se non ci sono noi vi ringraziamo e vi restituiamo la linea grazie grazie davvero a Elina Del Forno insieme a Nicoletta Rizzetto grazie naturalmente anche al sindaco Conte e al comandante Gallo per averci illustrato questa importante novità sul fronte sicurezza ma noi torniamo a parlare di apprendistato duale era rimasto sospesa questa domanda direttore Bosca Riola di quanti quanti ragazzi se c'è una percentuale che affrontano questa esperienza che affiancano l'insegnamento in classe a quello che poi è il vero e proprio apprendistato in azienda poi rimangono in quell'azienda o comunque rimangono in quel settore lavorativo una volta diplomatici la maggior parte dei ragazzi fortunatamente rimane diciamo che i due anni di presenza in azienda aiutano molto perché contrariamente a quello che accade quando un giovane si approccia ad un'azienda qui abbiamo diciamo così la copertura dei due anni nei quali l'imprenditore e l'allievo possono conoscersi capirsi reciprocamente adattarsi e quindi è onere diciamo così dell'imprenditore quello di fare in modo che il ragazzo in qualche maniera si innamori dell'azienda perché poi questo è un po' anche il senso di questo progetto e quindi quando l'imprenditore riesce a far apprezzare la propria azienda le proprie lavorazioni ma proprio la struttura che compone tutta quanta l'attività diciamo che i risultati sono soddisfacenti i ragazzi capiscono e tranne casi particolari che sempre ci sono ma nella maggioranza dei casi poi il rapporto diciamo così continua e questo è un risultato estremamente importante per la nostra organizzazione dal punto di vista delle aziende quello che dicevo prima la domanda che arriva dal mondo imprenditoriale dal mondo degli artigiani per quanto vi riguarda ha una offerta sufficiente cioè c'è abbastanza offerta da parte anche di giovani che escono dal mondo della scuola per quella che è poi la necessità delle imprese no diciamo che attualmente c'è una grossa difficoltà c'è una grossa difficoltà perché purtroppo il numero degli allievi che vanno a scuola si riduce sempre di più poi ci sono problematiche anche familiari eccetera quindi un contesto molto difficile infatti le aziende attualmente noi siamo nella zona industriale di Vittorio Vento che è una delle più grandi zone industriali del Veneto e stanno cercando tutti quanti ciascuno si porta via quello che ha dalla porta accanto dell'azienda accanto però non è un aspetto questo negativo perché chiaramente non fa crescere le aziende le aziende anche artigiane perché si svuotano magari vanno via nelle grosse aziende perché magari economicamente hanno qualcosa in più tante volte e non si riescono a trovare quindi anche il fatto di trovare allievi cioè è difficile trovare magari studenti che escono dalle scuole preparati preparatissimi per quello che è il nostro mondo del lavoro è chiaro che bisogna continuare a insistere a costruire e magari questo fatto anche dell'apprendistato duale sicuramente è un qualcosa in più di positivo che sicuramente è un aspetto che può contribuire sicuramente a far crescere le aziende stesse e anche a far inserire subito i giovani in queste aziende e anche a far sì che siano proprio pronti diciamo di quello che sarebbero in questo momento insomma fino adesso perché purtroppo la tecnologia il mondo e anche le automazioni tutto quello la meccatronica eccetera sono tutti argomenti che sono di attualità ma che purtroppo a volte le scuole non si affrontano nelle scuole superiori e magari nelle aziende già si fa quindi loro riescono già a creare già avere questa opportunità di crescita di insegnamento anche perché le aziende devono avere il tempo materiale per insegnare a questi ragazzi per affiancarli c'è questo tempo alla luce della carenza di personale delle commesse da evadere di tempistiche che si accorciano sempre di più sì non è sempre facile ho visto che tante aziende tutti i miei colleghi di altre attività di altre aziende si lamentano sempre perché non riescono magari a sopperire a questa necessità di stare dietro agli ragazzi agli allievi in realtà io con i miei collaboratori abbiamo sempre cercato di dare una mano di inserirli di affiancarli per poter far sì che possano imparare vedere conoscere tutti gli aspetti delle attività so che è difficile ma bisogna arrivarci se vogliamo costruire qualcosa di positivo anche in questi ragazzi perché se i ragazzi hanno passione nella materia che stanno facendo a scuola studiando a scuola è giusto dare anche a loro delle conoscenze e lo spazio necessario perché altrimenti e io vedo che tante volte sono molto contenti perché se riescono a fare le cose nella teoria le vedono nella pratica ed è fondamentale secondo me oggigiorno non è più come un tempo quando la teoria e la pratica che era nella scuola stessa era già un qualcosa di osso spessore per cui quando uno usciva dalle scuole era già a buoni livelli oggigiorno come dicevo prima con l'innovazione la tecnologia che è sempre più avanti e sempre più che cambia in continuazione è difficile che questi ragazzi possano stare al passo già le aziende fanno fatica loro stessi a stare al passo questo sicuramente il mondo dell'artigianato direttore è sufficientemente attrattivo per i giovani d'oggi sottolineo d'oggi sì secondo noi sì è assolutamente attrattivo perché è quell'ambito che permette ai ragazzi e alle persone in senso lato di sviluppare più di tutti la loro personalità questo secondo noi è un aspetto importante che ci contraddistingue e che vogliamo continuare a contraddistingue soprattutto nei confronti delle aziende grandi o comunque molto più istituzionalizzate nel mondo dell'artigianato se una persona ha il desiderio di progredire di avanzare di capire di imparare e anche di avere un ritorno economico ha la possibilità certo è necessario avere come dicevo prima una struttura iniziale di un certo peso perché l'impresa artigiana richiede molto l'impresa artigiana dà molto ma l'impresa artigiana richiede anche molto richiede richiede tempo richiede passione richiede applicazione ma risponde anche poi per quanto riguarda il rapporto umano che si instaura con il datore di lavoro e con i colleghi di lavoro ma anche quello che può essere una una prospettiva futura di lavoro attività come l'impiantistica come la meccanica come l'autoriparazione come i servizi alla persona sono realtà che in questo momento stanno vivendo un momento di passaggio generazionale che è molto difficile perché come dicevamo prima si fa difficoltà a semplicemente a coprire i posti che vengono dismessi ma che proprio per questo nel futuro avrà una grande importanza e anche una grande possibilità dal punto di vista delle soddisfazioni economiche e professionali quindi sicuramente il mondo di artigianato è il mondo che nel futuro potrà dare molte soddisfazioni una domanda che faccio ad entrambi dalla vostra esperienza com'è cambiato l'approccio al mondo del lavoro dei ragazzi una volta si cercava il posto fisso si cercava di scalare e di far carriera oggi direttore prima lei e poi a Camerin che cosa che cosa cercano i ragazzi oggi beh indubbiamente bisogna fare delle dovute diciamo così considerazioni però nella maggioranza dei casi diciamo che quello che lei diceva prima è molto meno presente oggi i ragazzi nella stragrande maggioranza dei casi vivono l'attività lavorativa come ciò che gli permette di fare tutt'altro e questo li porta a cambiare spesso li porta ad essere molto più trasversali li porta a cercare esperienze sempre più numerose e sempre diverse e questo per l'azienda è un problema perché l'azienda invece avrebbe la necessità di avere rapporti continuativi è un matching che va gestito nella dovuta maniera soprattutto da parte dei datori di lavoro che devono loro adattarsi a quelle che sono le esigenze dei ragazzi perché è generazionale il rapporto e quindi molto spesso si dice sempre quando ero giovane io e quando cosa adesso invece ma questa non è una cosa che noi possiamo controllare se i ragazzi se queste generazioni sono così sono così e non c'è possibilità di dire dovrebbero essere diversamente sono così sta a noi come organizzazioni e agli imprenditori diventare attrattivi anche per questi tipi di ragazzi per questo tipo di mentalità che le giovani generazioni hanno quindi dobbiamo noi fare in modo che i ragazzi scelgano noi e scelgano di rimanere da noi invece che cercare delle esperienze ulteriori bisogna adeguarsi dice il direttore a quelle che sono le nuove generazioni anche perché questo comporta un continuo turnover all'interno delle aziende cioè ci si porta via il dipendente si va alla caccia del dipendente e lo si porta via a vicenda e quindi questo poi crea un circolo vizioso che può diventare anche può anche danneggiare la realtà di un'impresa è così diciamo che io come realtà come attività abbiamo sempre diciamo così accolto i ragazzi delle scuole per l'alternanza scuola lavoro prima adesso con l'apprendistato duale nella speranza che poi magari per l'attività che abbiamo per la multiplicità delle cose che facciamo queste diciamo così potessero anche rimanere non sempre questo accade ma come diceva il problema è proprio loro che sono diciamo così hanno una visione diversa un po' della vita probabilmente e nonostante tutto che possano rifermarsi per motivi economici per Mari per il fatto di star bene nell'attività o di fare quello che a loro piace il problema secondo me è proprio di voler provare esperienze nuove anche nello stesso ambito nello stesso settore e magari anche in altri leggermente differenti finché magari trovano quella situazione quella cosa Mari è successo a me è capitato che qualcuno è andato magari è anche tornato magari fa o fa esperienze all'estero anche quelle che ha fatto l'apprendistato duale adesso non si sono fermati hanno intenzione di fare altre esperienze anche all'estero magari poi torneranno magari con un bagaglio magari positivo maggiore e quindi potranno essere inseriti in azienda o magari in altre aziende però voglio dire è difficile oggigiorno questi giovani non hanno non c'è non c'è la passione di fermarsi su un posto eccetera magari è una cosa che tra virgolette è positiva cresce da forse probabilmente determinata anche dal fatto che non hanno forse acquisito quella padronanza o quell'esperienza globale che magari forse una volta avevamo noi nel tempo e quindi alla fine della scuola oppure dopo qualche anno di lavoro loro cercano altre opportunità per crescere per rafforzarsi perché sanno comunque che di anni ne avranno parecchi davanti insomma quindi può darci che questa esperienza sia questo modo di loro sia vissuto in questa maniera qua insomma abbiamo capito bene come funziona quelle che sono le prospettive le opportunità e dai ragazzi e dal mondo delle aziende l'ultimissima proprio chiusura direttore Bosca Riol è importante che le scuole che hanno un ruolo fondamentale partecipino a queste iniziative sappiamo che è faticoso anche per loro e anche per gli insegnanti che devono chiaramente poi modulare le materie il proprio curriculum anche in base a questo però è fondamentale che ci sia questa continua collaborazione scuola impresa assolutamente l'ho detto inizialmente per noi a Vittorio Vento è stato fondamentale l'arrivo presso l'Istituto Città della Vittoria della dottoressa Picchi che ha portato esperienze fatte anche in altre zone ma è fondamentale che la scuola e chi vive all'interno della scuola abbia questo desiderio e questa capacità di aprirsi di più al mondo del lavoro perché questo è fondamentale anche per loro perché dare agli allievi una possibilità di questo tipo come l'apprendistato duale li rende anche più appetibili nei confronti di altre scuole che queste scuole che questa esperienza non la propongono quindi è un percorso che dobbiamo fare assieme che è complicato perché bisogna mettere insieme i ragazzi le loro famiglie le aziende tutte quante con i loro problemi tutte quante con le loro responsabilità ma questo è un percorso secondo noi fondamentale e siamo lieti che in questi ultimi anni sempre più scuole anche sotto la nostra spinta di confrattigianato aderiscano a questo percorso perché significa veramente per questo tipo per lo meno di scuole che sono quelle più legate all'attività produttiva significa veramente entrare in contatto e creare una squadra che poi come dicevo prima possa essere utile a tutto quanto il territorio perché non esiste più la scuola il mondo del lavoro le imprese le associazioni ma bisogna cominciare a ragionare in ordine di territorio e questo è fondamentale che lo si faccia tutti quanti assieme assolutamente sì è un'opportunità lo ripeto sia per le aziende che sono la continua ricerca di personale ma sia per i ragazzi che possono avere una formazione molto più completa e poi insomma anche un lavoro futuro e una possibile indipendenza da costruirsi grazie davvero al direttore di confrattigianato imprese Vittorio Veneto Alberto Boscariol grazie a voi e grazie anche a Massimo Camerin per averci raccontato di questa importante esperienza siamo sempre a disposizione per raccontare di nuove iniziative noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco Rieccoci in diretta due notizie di Cronac battute dall'Agenzie la prima che riguarda un'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato due discariche abusive nei comuni di Carre e Chiupano secondo le indagini delle fiamme gialle le aree per 2500 metri quadrati complessivi erano utilizzate per depositare senza autorizzazione grossi elettredomestici non funzionanti biciclette ciclomotori e mobili tutto materiale che di norma viene staccato negli ecocentri o comunque smaltito secondo le normative e poi ci spostiamo invece nel Veneziano per un incidente che ha visto coinvolte cinque auto in realtà gli incidenti sono due collegati tra di loro e si sono verificati la notte scorsa della Clea dopo un primo impatto con tre vetture che ha portato al ferimento lieve di una giovane di San Donato di Piave sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi di legge pochi istanti più tardi la vettura di servizio è stata centrata da un'altra auto di passaggio che non si era accorta della presenza di ben quattro mezzi sulla carreggiata non ci sono state conseguenze per i militari dell'arma che erano appena scesi dall'abitacolo sul posto hanno operato per circa tre ore anche la polizia locale il suo M118 e i vigili del fuoco e adesso ci spostiamo in cerca di refrigerio in altitudine andiamo in marmolata cerchiamo di capire se lì fa fresco rispetto al caldo opprimente in pianura e vediamo anche come è partita questa stagione estiva e che programma c'è per i prossimi mesi e lo facciamo con il direttore di marmolata SPA Patrick Pomare ben ritrovato direttore grazie per essere con noi buongiorno Francesca un saluto a tutti i telespettatori di Antena 3 la vedo con insomma una felpa quindi immagino che lì le temperature siano più gradevoli che in pianura beh indubbiamente quello si trova in dubbio è un po' anche quello che cercano i nostri clienti venendoci a trovare cioè a trovare un po' di refrigerio dall'Affa che molto probabilmente hanno nelle loro città ecco che inizio di stagione è stato e le chiedo anche se il le condizioni meteo il maltempo che in qualche modo insomma ha interessato anche le nostre montagne nelle scorse settimane ha influito per quanto riguarda chiaramente poi l'afflusso dei turisti marmolata si beh guardi noi come apertura siamo aperti da due settimane e mezzo questo perché abbiamo dovuto posticipare leggermente l'apertura che di solito era per metà giugno per noi la data di apertura è stata il 29 giugno a seguito insomma di importanti lavori e aggiornamenti tecnici che abbiamo fatto sul nostro impianto quindi il maltempo che comunque abbiamo constatato nel mese di giugno ha influito ben poco per quanto riguarda l'afflusso dei nostri visitatori vero è invece a luglio in queste prime giornate che grosso modo sono state solo un paio di giornate di brutto tempo quando c'erano le giornate migliori col sole abbiamo avuto parecchio afflussi di persone quindi siamo veramente contenti al momento ecco lei diceva spesso arrivano qui proprio anche in cerca di refrigerio diciamo che tra i tanti motivi che portano i turisti ad arrivare su da voi ma c'è anche molto altro sappiamo che l'offerta per la stagione estiva è davvero ricca non solo per ammirare e godere della meraviglia della natura sulla marmolata ma anche ci sono mostre ci sono eventi ci sono tanti appuntamenti e tra questi c'è anche la possibilità di effettuare delle visite guidate al museo insomma un'immersione anche nella storia della nostra della nostra montagna esattamente abbiamo tutta una serie di eventi che si protraranno da qui fino al 15 settembre nello specifico a seguito appunto anche che abbiamo fatto un riaggiornamento e anche ristrutturazione tra virgolette di quelle che sono le zone della zona sacra dove si è combattuto la prima guerra mondiale attività che ripeto viene gestita da volontari che sono veramente bravi sono impegnati a riqualificare tutta la zona quest'anno abbiamo organizzato appunto delle visite guidate per chi lo vorrà previo prenotazione ogni venerdì verrà accompagnato lungo tutti questi percorsi tutti rimessi a nuovo tutti accessibili molto facilmente ovviamente comunque per accedervi bisognerà essere attrezzati di imbragature e quant'altro che comunque saranno fornite dalla guida che lo accompagneranno e sono veramente un fiore all'occhiello che da quest'anno insomma noi abbiamo voluto valorizzare ancora più ad aggiunta di quello che noi già offrivamo prima col museo che si trova all'interno della stazione come diceva lei abbiamo inoltre implementato una mostra per quanto riguarda la bellezza delle dolomiti del patrimonio unesco tra cui anche la marmolada ne fa parte che anche questa si troverà all'interno dell'arrivo della seconda funivia precisamente nella stazione di Serauta una bella mostra che è stata organizzata sia dal Dolomiti Unesco sia dalla regione Veneto sia che dalla regione Trentino e per chi viene a trovare che vuole conoscere la realtà di quelle che sono le dolomiti è veramente una bella esperienza allo stesso tempo avremo altri eventi tra cui ormai prossimo si può dire il 28 luglio avremo in visita la brigata Cadore in congedo che farà alcuni spettacoli sia la partenza qui di Marga Ciappella sia a Serauta e sia sulla terrazza panoramica inoltre offriremo uno spettacolo anche unico nel suo genere che è il 18 agosto il tramonto dalla regina offriremo la possibilità ai nostri visitatori di salire in quota extra all'orario ordinario di servizio che è dalle 8 di mattina alle 4 e mezza pomeriggio ma bensì saliranno alle 6 per poter vedere in tutto il suo splendore il tramonto dalla cima da circa alle 7 e mezza 8 di sera questo è tutto un insieme di eventi che abbiamo voluto organizzare quest'anno e speriamo che suscitino un discreto interesse per i nostri visitatori è un programma aperto a tutti alle famiglie ai più esperti escursionisti insomma si cerca di accogliere un pubblico ampio di turismo si è molto variegato perché noi puntiamo appunto a poter dare la possibilità a tutti di vedere questo panorama chi più esperto con diverse attività come l'ho accennato prima appunto escursioni all'aperto invece chi è meno esperto ma comunque già solo semplicemente con l'accesso alla e sul punto più alto insomma 3.265 anche se non è proprio pratico diciamo della zona per fare le escursioni esterne può comunque ammirare tutto il circondario del Dolomiti che si vede attorno ecco io ne approfitto perché abbiamo parlato spesso anche nei nostri telegiornali della montagna vissuta in sicurezza spesso sentiamo di escursionisti che arrivano ad alta quota senza l'attrezzatura necessaria chi addirittura è in infradito senza la preparazione che serve in questi casi dal vostro osservatorio speciale notate una maggiore consapevolezza su come va affrontata e rispettata la montagna da parte dei turisti che arrivano beh guardi per quelli che vengono da noi sono sincero è più che un turismo di gente di città che non è che vive la montagna nel senso di scalate o quant'altro ma vengono semplicemente per poter visitare le montagne circostanti in sicurezza noi come lo facciamo lo facciamo trasportandoli semplicemente con un impianto li facciamo rimanere all'interno di zone delimitate da noi e noi che riputiamo sicure quindi valutiamo che sia adatta a tutte le tipologie dei nostri visitatori e quindi da questo lato noi riscontriamo che c'è una buona attenzione da parte del cliente che viene da noi anche perché comunque prima di poter affrontare la salita noi li mettiamo diciamo a conoscenza di quelle che sono le eventuali problematiche o come posso dire pericoli per la propria incolumità l'ultimissima domanda è legata un po' anche al tema che abbiamo trattato prima con gli ospiti precedenti ed era quello sulla necessità di trovare personale la carenza di personale che in modo trasversale riguarda molte voci della nostra economia sappiamo perché abbiamo parlato tantissimo negli anni scorsi che anche il settore turistico pagava un prezzo molto alto per quanto vi riguarda è un tema che sentite o tutto sommato magari anche rispetto agli anni scorsi va meglio da questo punto di vista ma diciamo che concettualmente nella realtà della nostra azienda quando parlo per il settore delle impianti a funi è una realtà ormai consolidata negli anni quindi significa che il personale che noi abbiamo al nostro interno è qui da molti anni e mediamente ho visto che rimane sempre salvo il fatto che magari non raggiunga l'età pensionabile oppure altre esigenze di andare via quindi per quanto riguarda l'aspetto del trasporto funivario no non nego che invece sotto l'aspetto della ristorazione e quant'altro in questi ultimi due anni c'è una difficoltà a reperire più personale ma io la ragiono anche nell'ambito montano perché vedo che anche l'estate chi è uno stagionale preferisce per certi versi fare la stagione al mare perché è più lunga fa più mesi diversamente in montagna la stagionalità si aggira all'incirca su tre mesi quindi c'è questa direzione di scegliere come scelta però obiettivamente non vedo grosse difficoltà come rispetto agli altri anni insomma è pronto è tutto così allestito per accogliere i turisti ormai da due settimane Marmolada si è fatta bella ancora di più per offrire al turista che adora le montagne il meglio di sé abbiamo sentito dal direttore pomerè quanto il programma di eventi sia davvero ricco da qui alle prossime settimane grazie grazie davvero al direttore di Marmolada S.P.A. Patrick Pomerè buon lavoro e naturalmente siamo pronti ad arrivare a venire nella Marmolada per ammirare tutta la sua bellezza grazie davvero direttore buon lavoro grazie davvero grazie abbiamo fatto questo viaggio nella bellissima Marmolada natura ma insomma anche eventi mostre museo per ammirare anche la storia che riguarda questo nostro gioiello abbiamo ancora una notizia di cronaca di cui raccontarvi che arriva dal Padovano due nuovi arresti per lo spaccio di stupefacenti a Padova individuato dalla polizia un alloggio al portello dove si vendevano e consumavano eroina ashish marijuana metadone e farmaci un appartamento dove comprare la droga e consumarla direttamente lì sul posto dove si poteva trovare ogni tipo di stupefacente e anche farmaci e metadone acquistati con ricette mediche false la polizia ha disposto gli arresti domiciliari per due persone accusate di avere acquistato droga e medicinali con ricette false l'indagine era partita dopo la morte per un mix letale di metadone e cannabinoidi di un 28enne Padovano nel 2022 droghe che erano state vendute al giovane dei due indagati in quell'occasione l'appartamento del portello venne anche perquisito subito dopo il decesso del ragazzo ritrovando dello stupefacente molte scatole vuote di medicinali e delle prescrizioni monitorando i telefoni degli occupanti dell'appartamento la polizia ha ricostruito l'acquisto di medicinali fatti nelle farmacie della città pagando in contanti per non lasciare traccia con ricette mediche false farmaci che venivano acquistati anche online e rivenduti insieme al metadone che uno dei due indagati tossicodipendente si procurava frequentando il CERD il secondo indagato invece metteva a disposizione l'appartamento per consumare la droga e i farmaci che rivendevano i loro clienti un giro consolidato e florido che aveva trovato nella casa del portello un luogo sicuro per consumare e acquistare il legamento e lo stupefacente i due indagati sono ora gli arresti domiciliari per loro è stato disposto anche l'uso del braccialetto elettronico Siamo quasi in chiusura vi ricordo un appuntamento da non perdere domenica dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste domenica 21 luglio dalle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia dalla Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca per l'occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda dopo la celebrazione e noi siamo davvero in chiusura vi ricordo gli appuntamenti con l'edizione serale dei nostri telegiornali a partire dalle 18 e 30 con il telegiornale regionale io adesso vi lascio alla pubblicità il meteo prima poi la pubblicità e poi il documentario sopra la sabbia il mare Dananga in Venezia e poi a seguire il film incendiari grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata naturalmente su Antenna 3 arrivederci grazie a tutti